Che cosa potrebbe facilitare la partecipazione pubblica dei cittadini alla definizione delle politiche? Con AIP2 e altre organizzazioni della società civile, noi siamo un'associazione nazionale per la partecipazione pubblica che conta circa 80 soci in quasi tutte le regioni italiane, un'associazione plurale costituita da cittadini, da amministratori, da docenti universitari, da esperti, da tecnici dell'APA. Siamo convinti che attivare percorsi partecipativi ben strutturati e di qualità che promuovono e diffondono valori di cooperazione, di fiducia, che sono inclusivi, che mettono tutti i partecipanti nelle condizioni di avere le informazioni che servono, i dati, di attivare una buona comunicazione sia offline che online, che coinvolga davvero e coinvolga inviti tutti i partecipanti, tutta la cittadinanza, la comunità, nei processi, processi in cui sia chiara la posta in gioco, quindi siano ben definiti gli obiettivi, i risultati attesi, possano sicuramente facilitare la partecipazione. Percorsi che devono essere orientati a dei risultati concreti, che devono attivare interazione costruttiva. Non stiamo parlando di assemblearismo, non stiamo parlando di palestra partecipativa, ma stiamo parlando di percorsi attivati, gestiti con competenza, che siano trasparenti, che abbiano delle regole chiare e che rendano conto ai partecipanti dei risultati che vengono ottenuti. Per fare questo occorre diffondere ancora conoscenza, buone pratiche, sviluppare competenze, non solo nell'APA, ma noi crediamo in tutto il sistema, quindi parlare un linguaggio comune. Tanto è stato fatto in Italia in questi ultimi vent'anni, ma ancora tanto resta da fare perché diventi davvero la partecipazione pubblica una prassi ordinaria nella progettazione e attuazione delle politiche. Anche l'obiettivo 17 dell'Agenda 2030, partnership per gli obiettivi, ci dice che occorre attivare collaborazioni inclusive orientate appunto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità. Occorre attivare interconnessioni e fare contaminazione. Alcuni ambiti di policy hanno già un approccio partecipativo, ma ad esempio occorre fare ancora tanto anche nella politica di coesione, nella politica di sviluppo regionale.